Quando si inizia a lavorare come direttore della fotografia, è abbastanza comune che ci si trovi coinvolti in piccole autoproduzioni di registi indipendenti. In genere è in queste occasioni che ci si sentono rivolgere le richieste più pittoresche. A me è capitato per esempio che un regista mi inviasse delle reference relative a Blade Runner chiedendomi di realizzare una fotografia di quel tipo. Quando gli domandai quali sarebbero state le location, il regista mi rispose che gran parte del cortometraggio si sarebbe girato nella cucina della zia. A quel punto o si rifiuta il lavoro per onestà intellettuale facendo presente che la richiesta non può essere soddisfatta, oppure si cerca di condurre il regista a più miti consigli suggerendogli diverse soluzioni visive e invitandolo comunque a maggior investimento sulle location, le scenografie, proponendo magari come feci al tempo anche un taglio al budget relativo alla fotografia, perlomeno per quanto riguarda le attrezzature, perché tanto andare a girare con un'Alexa in una stanza bianca con i mobili della nonna è del tutto inutile. Perché vi sto raccontando questo aneddoto? Perché sempre più spesso noto come nelle produzioni indipendenti la scenografia venga completamente trascurata. E questa è una cosa assurda perché proprio la scenografia sono le location che appariranno nel film e ciò che si riprende è molto più importante degli strumenti che si utilizzano per riprenderlo. Quindi il mio invito è a sensibilizzarvi, a sensibilizzare i registi e le produzioni con le quali vi trovate a lavorare sull'importanza di ciò che viene messo in scena, della scenografia, anche per la riuscita stessa della fotografia. È molto meglio andare a girare con un cellulare nell'ambiente giusto piuttosto che con una telecamera straordinaria nell'ambiente sbagliato che non serve al film. Quindi volendo sintetizzare tutto questo con un motto, Blade Runner nella cucina della zia, no.